E' importante sapere naturalmente come muoversi nel pianeta Capelli. Per questo noi abbiamo creato una mappa con delle coordinate che semplifica e aiuta a raggiungere gli obiettivi. Non si tratta di talento, si tratta soltanto semplicemente di avere un metodo e di seguirlo. L'approccio che i nostri allievi, in questo caso l'abbiamo fatto con la Marina Militare per un arco di tempo veramente ristretto, meno di tre settimane, hanno raggiunto degli obiettivi e risultati soddisfacenti. Il metodo si divide in due parti, una parte teorica e una parte pratica. Anche lì andremo ad approfondire la pratica anche nel sogno lucido. Da come potete vedere la semplificazione del metodo aiuta tantissimo a raggiungere in breve tempo dei risultati professionali ad alto livello. Conta molto la volontà dell'allievo e la qualità del metodo.